Musica Isa schiera un'altra Clio vedete che anche a parità di vettura poi i fari sono differenti quelli superimentari Corsini e Stefani hanno il numero 92 con i colori della Sebastian Loeb certo che per un appassionato leggere il nome Sebastian Loeb sulla roll bar della macchina fa un po' effetto fa un bel effetto diciamo che noi ci concentriamo a fare il meglio che possiamo e speriamo che vada tutto bene la prima volta con questa macchina e proviamo a dare il massimo mentre Roberta l'ha già utilizzata quindi lei un po' di segreti li conosce magari è pronta a svelarteli pronte via Corsini, Stefani numero 92 per loro Alberto Alessandro chiedo scusa e Roberta gareggiano con i colori della scoreria New Turbo ma anche con la pentola Motor Team è un ragazzo tra l'organizzatore e è un ragazzo è un ragazzo che si Grazie a tutti Grazie a tutti. Questo tinta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a controllare la graduatoria per l'equipaggio. Secondi, secondi, secondi. Quindi bisogna dare anche le coppe. Numero 92. Noi abbiamo gli aggiornamenti in diretta, ringrazio ancora ai ragazzi della Chrono Car Service che ci mandano le classifiche aggiornate di volta in volta. Secondi di classe, secondo di gruppo, 31esimi assoluti. Ragazzi, un bel passo, complimenti. Grazie, era, diciamo, questo rally l'avevamo pensato per provare questa macchina e l'obiettivo a fatti era arrivare in fondo, però diciamo che è finito anche bene, quindi siamo molto contenti. complimenti davvero, complimenti davvero. Non ho sentito il tifo lì in fondo. Ok, prego, ora potete andare a raccogliere l'abbraccio per la Corsini e la Stefani. Grazie.